Salve a tutti, è Thomas Tricker e bentornati, benvenuti nella terza parte della filmografia di Dario Argento oggi altri tre film per la precisione Tenebre, Fenomena e Opera e partiamo come è giusto che sia da Tenebre del 1982 dopo il momento diciamo così di horror puro con Suspiria e Inferno Dario Argento torna al suo primo film, torna al thriller e la trama è sempre quella, c'è un assassino in circolazione e in questo film copia il modus operandi di un killer di un libro, di uno scrittore americano che arriva a Roma proprio all'inizio del film questo scrittore viene contattato dalla polizia per darlo aiuto nelle indagini da lì si dipana tutta quanta la storia, tutta quanta l'indagine nel cast del film c'è Giuliano Gemma nel ruolo dell'ispettore incaricato dalle indagini c'è Anthony Franciosa nel ruolo del protagonista diciamo così di questo scrittore poi c'è Dario Nicolodi, Lara Vendel, Veronica Lario e tantissimi altri è un film pienissimo di cast e pienissimo di omicidi Dario Argento questo film ritorna come ho detto al suo primo film ma in realtà non abbandona il tutto l'horror, questo rimescola l'horror e il thriller di Dario Argento come aveva già fatto in Profondo Rosso e ne viene fuori un film eccezionale, un film che non è tra i miei preferiti di Dario Argento probabilmente a causa del finale perché da questo film e nei successivi e per altri Dario Argento inserisce un doppio triplo finale con rovesciamenti, colpi di scena che sinceramente non mi fa impazzire, tuttavia praticamente tutto il film questo Tenebre è eccezionale, il film come ho detto si basa sulla storia di questo assassino che uccide seguendo le indicazioni di un libro di questo scrittore infatti il libro appena uscito che vediamo all'inizio del film si chiama appunto Tenebre la parte interessante del film è che fa maledettamente paura fa talmente tanta paura che potrebbe essere accostato a Profondo Rosso come perfezione di film e di opera di perfetto equilibrio tra horror e thriller non avendo però tutta quella perfezione che ha Profondo Rosso Tenebre è un film completamente in un certo senso diverso da Profondo Rosso ma molto simile ma che riesce comunque a darti le stessi senti e sensazioni di paura di inquietudine eccetera che Dario Argento ha imparato a fare benissimo è all'apice della sua carriera in questo momento fino agli anni 70 inizio agli anni 80 e questo film Tenebre scorre benissimo e non dura troppo, un'ora e quaranta mi sembra ed è un ritmo veramente eccezionale si passa da scene molto brevi e molto intense a scene di inseguimento lunghissime, c'è una scena fantastica di inseguimento di Lara Wendel che praticamente io penso sia fatta tutta Roma da capo a capo in questa scena di inseguimento perché percorre strade, salta cancelli, scavalca muri, attraversa giardini, entra in casa va in una cantina, torna in soffita, fa un giro infinito ed è fantastico perché non è noioso, viene inseguita da cani, gatti, rospi gli succede qualsiasi cosa a questa ragazza durante questo inseguimento e come ho detto si intervallano scene lunghissime a scene brevi ci sono degli omicidi che durano proprio 20 secondi il tempo proprio di farti entrare nell'atmosfera e subito si colpisce scene lente a scene lunghe e soprattutto sangue ovunque sangue a non finire, probabilmente anche più di profondo rosso forse c'è ancora più sangue, sicuramente più omicidi ma probabilmente c'è ancora più sangue di quello che abbiamo visto in profondo rosso ritornano praticamente tutti gli elementi del classico film di Dario Argento le soggettive, l'utilizzo di scene a inquadratura molto ampia intervallate da inquadratura strettissime si crea la tensione in situazioni veramente impensabili c'è un omicidio bellissimo fatto in una piazza piena di gente in pieno giorno e Dario Argento ci mette un omicidio e ce lo mette veramente bellissimo inaspettato ovviamente per la situazione è veramente terrificante in onda del film mescola la classica storia di Dario Argento serial killer inizio delle indagini, protagonista coinvolto quasi per caso e svolgimento delle indagini ha una storia parallela di questa donna e di flashback sul suo passato su quello che le è accaduto in giovinezza che è molto particolare, molto bello cosa che non c'era nei precedenti film e che aggiunge, dà un qualcosa veramente in più a una tipologia di film che Argento aveva esplorato ormai in maniera completa dopo i primi tre film e con Profondo Rosso aveva in qualche modo fatto tutto il possibile con quel tipo di storie invece qui la rimescola un altro po' ne fa venire fuori qualcosa di un po' più completo non completo, è la parola sbagliata ma diciamo diverso pur rimanendo nella stessa identica storia nelle stesse identiche situazioni Tenebre come ho detto sarà per questo finale un po' strano che mi ha lasciato un po' così stranito rimane comunque un finale terrificante che proprio ti paralizza davanti allo schermo veramente eccezionale tuttavia a parte questa cosa che comunque è solamente un mio gusto personale Tenebre è un film fantastico pauroso, di tensione, vera tensione che riesce a intrecciarsi talmente bene che quasi non ti accorgi del solito buco di trama gigantesco che c'è sempre in questo tipo di storie d'Ario Argento che non avrebbe senso la risoluzione finale non ha senso qui come in tutti gli altri film però quasi non te ne accorgi nel finale quasi ci credi a tutto quello che stai vedendo pensi che sia veramente che abbia perfettamente senso in realtà non è così però non te ne accorgi perché sei talmente spaventato a quello che succede il finale è pienissimo di roba e pienissimo di sangue che a momenti sembra quasi che l'indagine e la storia sia proprio perfetta cosa che purtroppo non è e so che continuo a ripetermi però questo tipo di problemi diciamo così di trama in questo film è probabilmente il momento in cui lo senti meno proprio perché il film è pieno è completo è ricco è variegato e non hai il tempo di chiederti se ha veramente senso tutto quello che stai vedendo a questo punto siamo nel 1985 ed è il turno di Fenomena un film che io ho adorato è probabilmente uno dei miei preferiti di Dario Giante insieme a Profondo Rosso e Suspiria e in questo film abbiamo nel cast Jennifer Connelly alla sua praticamente primissima seconda terza interpretazione aveva già fatto un film la protagonista però qui nel 1985 siamo ancora un anno due prima di Labyrinth il film che la lancerà al grande pubblico quindi era ancora quasi quasi sconosciuta oltre a Jennifer Connelly Donald Pleasance e Davia Nicolodi che torna dopo Tenebre Fenomena è un film gioco di parole orribile fenomenale ritorna alla stessa identica trama c'è un assassino in circolazione c'è una ragazza che dall'America arriva in Svizzera in un collegio in un collegio femminile cominciano ad accadere cose strane cosa ha questo film di diverso dagli altri ha il personaggio fantastico di Jennifer Connelly che è questa ragazza molto particolare che oltre a soffrire di sonnambulismo ha dei livelli che immagino siano impossibili da raggiungere realmente e in più ha una capacità telepatica fortissima la capacità di comunicare con gli insetti no non sto scherzando lo scopriamo barra lo scopre lei durante il film incontra un entomologo interpretato appunto da Donald Pleasance che lei parla appunto di questa capacità di insetti di comunicare a grandissime distanze e appunto durante il film scopriamo che effettivamente lei ha questa capacità di una scena bellissima dove lei chiama raccolta uno sciame di insetti gigantesco che quasi copre tutta quanta la scuola dove si trova il film come al solito comincia in una maniera scoppiettante Alpi Svizzere bellissime fantastiche di cui Dario Argento probabilmente si è innamorato visto che le rimetterà anche nel film successivo Opera una ragazza perde l'autobus questa ragazza interpretata dalla prima figlia di Argento Fiore Argento questa ragazza si mette a vagare per le strade di queste montagne arriva in una baita isolata la classica baita isolata di montagna e in questa baita c'è qualcosa o qualcuno che comincia ad inseguirla e arriverà naturalmente ad essere la prima vittima in un omicidio veramente folgorante quindi qui Dario Argento in questo film rimette il suo thriller rimette il suo horror e ci mette un livello di sopranaturale che non aveva ancora raggiunto nei film precedenti questo per via di questa ragazza appunto sonnambula c'è una scena che lei sta camminando appunto durante il sonno e segue delle luccele che le fanno trovare degli indizi come scoprerà più tardi degli indizi riguardanti appunto gli avvenimenti strani che stanno accadendo nella sua scuola inoltre Dario Argento probabilmente o involontariamente oppure volontariamente e lo lascia non spiegato di sua volontà appunto questa cosa che io credo di aver visto ma mi sbaglio è che probabilmente Dario Argento vuole farci intuire che lei stessa è un insetto questa ragazza molto probabilmente oltre proprio perché può comunicare un insetto è probabilmente perché lei stessa è un insetto in realtà perché dico questo perché questa ragazza durante il film cade dal secondo piano vola fuori da un'auto e non si fa mai niente si lo so potrebbe essere il classico buco di trama all'Avario Argento lo so però mi piace pensarlo così mi piace che ci sia stata messa questa cosa probabilmente mi sbaglio io però potrebbe essere una roba interessante a me è piaciuta sinceramente io ci ho visto questa cosa magari sbaglio è stato di fatto che comunque il film pur essendo parecchio lungo perché siamo sulle due ore non riesce ad annoiarti fino a che si arriva al finale e anche qui ritorna un finale doppio triplo quadruplo molto molto dilungato che anche questo a me non ha fatto impazzire a parte naturalmente la messa in scena fantastica comunque orrorifica di Argento che qua c'è a dei livelli incredibili di nuovo la trama come ho detto è sempre la stessa succedono sempre le stesse identiche cose in più abbiamo questo personaggio fantastico interpretato benissimo da Jennifer Connelly e ci mancherebbe altro che dà al tutto probabilmente per il fatto che è Jennifer Connelly dà tutto quanto un'area di fantasy un'area di fantasy che non c'era mai stata fino adesso in Daura Argento l'horror sì ma è fantastico fino a un certo punto qui proprio vediamo il fantasy vediamo quasi di poteri magici non magici nel senso che lancia le sete ma quasi non riesco a spiegarmi dà tutto quanto questo personaggio della conne un po' sonnabuda appunto può parlare con gli insetti forse lei stessa è un insetto dà tutto quanto un'area di fantasy che rende il film completo in ogni sua parte questo film tocca praticamente tutti i generi tocca l'horror il thriller si parla comunque della vita di questa ragazza del tema dell'abbandono della famiglia del fatto di doversi fidare degli adulti intorno a lei del fatto di trovare qualcuno che possa capirla come appunto l'entomologo che appunto discutono degli insetti discutono le loro capacità quindi Fenomena è un film forse tra i più completi da Regento che appunto dà allo spettatore la possibilità di vedere qualsiasi proprio qualsiasi cosa di toccare tutti i generi possibili in un film del genere e per Fenomena non ho praticamente altro a dire se non che è uno dei miei film preferiti da Regento forse uno di quelli che ho apprezzato di più insieme appunto a Sospire e Profondo Rosso e cosa dire guardatelo perché è bellissimo 1987 Opera altro film bellissimo del 1987 appunto con Cristina Marsilla che non lo pronuncerò mai correttamente Ian Charleston Dario Nicolodi un'altra volta un film ambientato non so se non so se potete considerare uno spoiler al teatro dell'opera una compagnia sta mettendo in scena il Macbeth di Verdi la protagonista principale dell'opera viene investita da un'auto che deve essere sostituita rapidamente da quella che diventerà la nostra protagonista qualcuno comincia a uccidere gente all'interno di questo teatro dell'opera c'è un assassino in circolazione eccetera è sempre la stessa roba cosa ha di bellissimo questo film innanzitutto l'inizio l'inizio è veramente spettacolare quasi tutti i titoli di testa sono su un'inquadratura quasi ferma di un corvo in questo film ce ne sono tantissimi questo perché su questo teatro dell'opera si sta mettendo in scena appunto questo Macbeth un po' particolare il regista di questa opera lo fa a modo suo lo fa lo fa moderno c'è c'è una situazione di guerra tipo un po' questo apocalittico ci sono aerei schiantati in scena Lady Macbeth con una pistola insomma è un casino allucinante ci sono tantissimi corvi appunto sul palco e l'inizio è tutta questa inquadratura lunghissima durante i titoli di testa di questo corvo che gracchia è semplicissima un'inquadratura semplicissima quasi ferma ed è bellissima dopodiché stacco improvviso inaspettato soggettiva della cantante che sta appunto provando e tu a questo punto dopo quasi dieci film di Dario Argento lo sai cosa vuol dire soggettiva di solito e pensi già che che questa cantante sia l'assassina soggettiva è quasi sempre uguale assassino e invece Dario Argento qua ti frega perché tiene la soggettiva della cantante che esce dal teatro nel momento in cui esce stacco di nuovo strada piena di gente ti fa vedere l'incidente ma non te lo fa vedere benissimo e infatti tu per tutto il film il volto di questa cantante non lo vedi ti frega ti fa ti fa credere per tutto questa prima sequenza questo questo inizio questi primi 5 minuti che l'assassino sia lei e lei viene investita immediatamente e fai ok sono disorientato ti frega e dai una cosa assolutamente gradita quando fai credere una roba e ti viene cambiato tutto quanto immediatamente ritorna il classico thriller la classica storia di indagine i classici omicidi fantastica la scena del primo omicidio che avviene con cui viene coinvolta la nostra protagonista la scena famosissima quella dove le vengono messi gli aghi sugli occhi con il nostro adesivo che è terribile terrificante ritorna il classico horror ci sono dei momenti di tensione fantastici altra scena bellissima quando l'assassino spara attraverso uno spioncino uccidendo non vi dico chi naturalmente vedi il proiettile che passa attraverso tutto lo spioncino che sfonda la testa di uno e va a finire a colpire un telefono che la protagonista stava prendendo per chiamare aiuto il telefono esplode in un rallenty fenomenale una scena più bella praticamente di tutto il film che rimane a occhi aperti da quanto è bella ritornano i classici inseguimenti la protagonista si infila in prese d'aria che non finiscono mai finisce dentro un appartamento esce torna dentro un altro ci sono degli effetti visivi bellissimi c'è un coltello piantato in una gola che è vero io penso sia vero perché non so come sia possibile farlo e renderlo finto perché sembra vero probabilmente sarà vero hanno ammazzato qualcuno per farla con la scena immagino di no ma è veramente realistico in maniera incredibile poi le scene con i corvi io mi sono innamorato delle scene con i corvi ci sono i corvi quasi sempre in tutto il film sarà un po' gli uccelli di Hitchcock non lo so però il fatto che ogni 5 minuti ci sia un corvo qualcosa da tutto quanto è un'atmosfera veramente particolare il film è violento come tutti quanti i film precedenti dare la gente sangue a non finire la solita trama un po' un po' traballante ci sono delle cose che non capisci perché vengono dette vengono fatte ma ritorna il solito discorso che non è un problema perché il film le situazioni le sequenze sono talmente belle che quasi non ci fai caso ritornano sul finale Esti Alpi Svizzere che di cui da raggiunto probabilmente si è innamorato comunque c'è ritorno a questo finale un po' un po' doppio triplo che qui veramente dà un po' fastidio nel senso che il film finiva in maniera abbastanza classica con un finale abbastanza troncato tagliato quei cinque minuti in più secondo me hanno rovinato un po' il film anche perché proprio sul finale la protagonista fa un certo discorso come scopriremo perché questo assassino è stato traumatizzato vediamo nei flashback comunque la protagonista fa un certo discorso al killer che per un attimo ti rovescia tutto quanto il senso del film ti rovescia tutto quello che avevi appena visto fino a quel momento lì che è una roba molto bella e penso il film finisce lì è un colpo di genio ti rovescia tutto quanto il film che hai appena visto invece poi si ritorna perché il finale è doppio triplo quadruplo e si ritorna all'idea iniziale quindi in realtà questa bella cosa che era il cambiare tutto quanto il senso del film viene ricreata e distrutta d'argento sul finale quindi che secondo me rovina un po' rovina un po' il tutto rovina un po' l'atmosfera anche se come ho detto il film è sempre quello la reggenda non lo sbaglia non riesce a sbagliarlo il film che fa da quando ha cominciato e lo fa non sempre meglio non credo che opera sia superiore a profondo rosso o o a tenebre o anche lo stesso uccella uccella dei primi di cristallo però si vede che dal reggendo comunque prova a fare un qualcosa di diverso cerca di cambiare rimanendo sempre all'interno delle stesse cose delle stesse situazioni e cerca di offrire un qualcosa di nuovo e lo farà anche nei film successivi in tutta la produzione degli anni 90 e successiva cercherà sempre di fare un qualcosa di diverso con la stessa identica trama qui ci riesce bene ci riesce molto bene nei film successivi ci riuscirà un po' meno bene ma lo vedremo più avanti quindi secondo me opera rimane probabilmente l'ultimo film ottimo di dare gente di questa tipologia di questo suo tipo di thriller sicuramente superiore ai due film successivi che farà sempre di questo tipo e del quale vi parlerò nella prossima puntata io vi ringrazio come al solito per avermi seguito e ci vediamo alla prossima ciao a tutti grazie